Un saluto a tutti Benvenuti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale d'approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia a chiossolarozzinitv.it. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché nonostante il ritorno della Regione Marche in zona Zala da lunedì, il governatore Accoroli ha deciso di allungare da mercoledì 28 aprile e fino a martedì 4 maggio la zona arancione rafforzata all'interno delle comune di Vallefoglia. Una decisione che non ha per nulla reso contento il sindaco Palmierucchielli, che ne parla così in questa intervista. Penso che sia una cosa che non abbia ragione d'essere, nel senso che i contagi sono più o meno stazionari e poi qui bisogna considerare che è un bacino molto largo a livello di distretto sociosanitario, di comprensorio, perché qui attorno alla piazza di Montecchio, piazza della Repubblica, ruotano 50.000 persone che sono residenti. Quindi se uno fa i conti su 15.000, 14.000 passa e sbaglia, fa i conti. In secondo luogo ci sono tante attività lavorative e commerciali, che so, da Stefano vengono da Pesaro Urbino a comprare le cose che lui vende e quindi c'è nel bene gente che viene a lavorare, che trova benessere. Quando c'è un'infezione, una pandemia come questa, è chiaro che è più forte anche le possibilità di creare contagi. Quindi il calcolo va fatto in un bacino, in un comprensorio più vasto. Tra l'altro noi abbiamo 93 contagi, dati che abbiamo noi, che sono quelli che da 10 giorni sono sempre quelli. Quindi non ha senso tanto più che, ho chiesto al Presidente della Giunta regionale, che è stato disponibile a chiamarmi, e gli ho chiesto di trovare tutti gli elementi necessari per la revoca di questa ordinanza. E spero, io sono ottimista, fiducioso, e siamo un po' anche amareggiati, diciamolo pure, perché, insomma, non pensavamo che, dato che eravamo in zona gialla, che abbiamo fatto di tutto per dire alle persone che non devono fare assemblamenti, che devono mantenere le mascherine, che devono fare l'igienizzazione. Però la gente è anche stanca, è un anno, che sono in un sacrificio enorme, per fortuna hanno continuato a lavorare, quindi l'appello che io ho fatto è quello di revocare l'ordinanza e di fare il punto vaccino a Talacchio di Vallefoglia, messo a disposizione gratuitamente dal Comune, per evitare di spostare 50.000 persone a Pesero, creando incidenti stradali, inquinamento atmosferico, disagio a tutte le persone. Però, ecco, spero, insomma, sono fiducioso che il Presidente dell'Aggiunta regionale, l'Assessore della Regione, possa ritornare sui suoi passi e darci una situazione, quella che è, di normalità. E anche il Comune di Montelabate, finito in zona arancione per la seconda settimana di fila, si è detto non soddisfatto della decisione presa dalla Regione Marche. Il Sindaco Cinziaferri si è detta molto indignata per questo e ha definito la decisione presa dalla Regione alquanto incomprensibile. Vediamo. Innanzitutto mi piacerebbe capire dove prendono questi dati e se è possibile averli anche noi come Comune di Montelabate, visto che non riusciamo ad ottenerli e soprattutto noi abbiamo dei dati che non sono quelli che utilizza la Regione. E già, come dicevo l'altra volta, questa cosa non va assolutamente bene. Loro dicono che il nostro tasso è elevato. Io so che esistono e abbiamo delle persone in quarantena perché comunque hanno contratto il virus, ma sono nuclei familiari. E quindi, secondo il mio punto di vista, questa è una cosa da tenere in considerazione. E' chiaro che una decisione del genere, io penso che la Regione non ha proprio capito che cosa scatenerà o cosa ha già scatenato, perché le persone sono stanche. Io da ieri pomeriggio, da quando ho fatto il post per far portare a conoscenza i cittadini, ho ricevuto insulti e anche minacce. Quindi stamattina abbiamo trovato scritto davanti alla porta del Comune parole che è meglio che non ripeto, quindi la situazione è esasperata. Mi viene un po' da sorridere perché mi chiedo come sia possibile che sulla Regione Marche, che è composta da 247 comuni, tre comuni che tutti insieme, forse arriviamo a 35.000 abitanti, possano compromettere il dato famoso RT, o come si chiama, per non avere la Regione in giallo. Non ci credo, quindi qualcuno mi deve spiegare le cose. Lo devono fare per me, lo devono fare per i cittadini, perché altrimenti sembra un po' qualcosa di poco chiaro, non voglio usare parole inappropriate. Una doppia indignazione, chiamiamola così, anche perché si mette nei panni le stesse delle numerose attività che potevano ricominciare questa settimana e che si vedono di nuovo per 5-6 giorni dover rimanere chiusi. Infatti, questo è stato il mio pensiero di ieri, i primi a essere avvisati sono stati loro, sia i ristoratori che i baristi, perché purtroppo anche per questa altra settimana devono stringere i denti e cercare di andare avanti con questo pseudo asporto che non so fino a che punto può essere soddisfacente. È chiaro che è un danno, un danno economico, perché le loro prenotazioni sono stati costretti ad annullarle e queste persone che comunque faranno festa il 1 maggio e anche il 2, domenica 2, si recheranno nei comuni vicini a noi, come Pesaro, Tavuglia, che invece sono gialli. Mi viene un po' da sorridere perché mi chiedo ma se gli spostamenti nel comune di Montrabate e di Vallefoglia sono vietati e una persona da Urbino deve andare giù a Pesaro, cosa facciamo? Lo blocchiamo, perché io farò bloccare tutti e chiederò udienza al prefetto perché voglio che mi mandino su altre pattuglie, perché non è possibile che il comune di Montrabate riesca a fare questo controllo con tre vigili, perché uno è infortunato, quindi non è possibile. E nella domenica appena trascorsa, in occasione delle 25 aprile della festa della liberazione, anche l'amministrazione comunale di Vallefoglia ha voluto ricordare questa importante data. Il sindaco e la giunta si sono per prima cosa ritrovati a Cappone per deporre un omaggio floreale all'insegna che indica via dei partigiani, per ricordare quanti hanno combattuto e sacrificato la vita per la libertà e la democrazia del nostro paese. Come da programma, la rappresentanza si è poi recata in via Nilde Iotti per inaugurare il nuovo parco realizzato sull'epoggio che domina Cappone e Morciola, che la giunta ha deciso di intitolare all'indimenticabile presidente della Repubblica Sandro Pertini. Subito dopo, la delegazione ha poi raggiunto il vicino parco di via Palmiro Togliatti a Morciola, antistanti il campo sportivo di calcio comunale, che è stato intitolato a parco 25 aprile Antonio Gramsci. Anche qui è stata deposta una composizione di fiori con i colori della bandiera italiana e ricordato brevemente l'iniziativa che si celebrava. E questa settimana è stato presentato presso la sede dell'Unione Comuni Pian del Bruscolo il nuovo portale turistico dedicato alla città di Vallefoglia. Visit vallefoglia.it, questo il nome scelto per il nuovo sito, è già online e fruibile per tutti. Il sindaco di Vallefoglia, Palmirocchielli, e la sviluppatrice del sito Elena Lazzarini si spiegano nel dettaglio in che cosa consiste. Consiste innanzitutto in dare un logo e un portale che racconta la storia, le bellezze ambientali, paesaggistiche, i beni culturali, tutto quello che c'è in un territorio come la città di Vallefoglia. e pensiamo che possa diventare l'ambiente, il turismo, la storia, i beni culturali, il patrimonio naturalistico, un pezzo del sistema economico e produttivo che crea lavoro, occupazione, crescita e benessere. Questo era un territorio tutto agricolo, prima che si mettessero insieme questi due comuni, Sant'Angelo col Bordolo in Vallefoglia, e poi diventate il territorio dei mobilieri e poi il territorio della lavorazione del vetro, della metallomeccanica, della refrigerazione. Oggi attraverso questo portale pensiamo che debba diventare anche un territorio turistico che è imperso del sistema economico e produttivo puntando, come vedete, il manifesto alle mie spalle nella festa del primo maggio a realizzare la Costituzione che metta al centro il tema del lavoro, del benessere, della crescita e della piena occupazione. Soprattutto in un periodo come questo dove il settore turistico è quello che ha sofferto maggiormente? Ma abbiamo sofferto tutti. Certamente il turismo è quello che ha sofferto di più. pensiamo che si possa riprendere naturalmente, come abbiamo detto tutti i giorni, quotidianamente, rispettando le regole, evitando assembramenti, mantenendo le mascherine, igienizzazione, le cose che sappiamo, sperando che con una vaccinazione a tappeto si possa ritornare già dall'estate in una situazione di normalità. Ecco, questo è un obiettivo. E' una novità perché non c'era un portale turistico con un logo turistico che ci distingue da altri territori, anche delle marche della nostra provincia e pensiamo che questa sia una cosa buona per far conoscere le bellezze della città di Vallefoglia. Il sito è strutturato per essere facilmente navigabile, per trovare tutte le informazioni nel più breve tempo possibile, nell'essere immersivo, anche nell'abbinamento con delle grandi immagini e una selezione di immagini che potessero rappresentare al meglio quello che è poi il territorio e quelli che sono i testi di Alessandra Mindoli. E' facilmente utilizzabile da, abbiamo pensato, per tutte le fasce di età e comunque da dispositivi sia desktop che mobile. Sul sito si troverà un menu dove si può navigare in tutte le categorie, nelle sottocategorie. E' possibile tradurre il sito in diverse lingue e quindi dare la possibilità anche ai turisti di poter tradurre velocemente i testi. Nella home page troviamo un riassunto di tutte le varie categorie e poi c'è una parte del blog dove ci sono degli approfondimenti su tutti i personaggi illustri, su tutti i paesi, i nostri borghi e tutte le caratteristiche più, diciamo, curiose e importanti anche del territorio. E ora parliamo di una bella iniziativa perché le comune di Vallefoglia ha comunicato che è ne procinto l'ultima azione dei lavori di realizzazione di un'area attrezzata all'esercizio fisico all'aperto localizzata a bottega nelle parco adiacenti del circolo ricreativo di Piazza Rossini. Nel dettaglio, l'area in questione è stata allestita con opportune attrezzature ginniche alle fine di garantire un'offerta nuova e allettante ai cittadini che vorranno usufruirne. In particolare è stato installato un attrezzo multiforme di grandi dimensioni composto da un emodulo parallele un emodulo con due anelli una parete verticale realizzata con neppioli un percorso sospeso un emodulo inclinato per esercizi di trazione e tre pioli singoli. L'area è stata dotata anche di un attrezzo ellittica di un attrezzo panca di un attrezzo surf di un attrezzo multifunzionale di piccole dimensioni e di un attrezzo bici oltre ad un attrezzo vogatore. Alle fine di consentire l'utilizzo dell'area anche nelle ore serali e al tempo stesso prevenire anche azioni di vandalismo è stato anche provveduto alla predisposizione di un'adeguata illuminazione con l'esecuzione dei lavori di predisposizione e di ampliamento della pubblica illuminazione esistente. E nella settimana che ha fatto seguito la giornata mondiale della terra che si è celebrata giovedì 22 aprile il sindaco di Tavuglia Francesco Apollucci è tornato a parlare di ambiente. Il tema centrale resta quello delle biodigestore e di una sua possibile realizzazione in quelle di Talacchio. Il sindaco in questa intervista ha ribadito come non ci sia nessuna contrarietà a questo tipo di impianto ma che avrebbe preferito un'altra posizione. Sentiamo. Noi come Comune di Tavuglia siamo sempre stati molto sensibili in questa amministrazione ai temi della sostenibilità ambientale e questo ci porta anche ad avere avuto anche in passato molto senso di responsabilità. dal 1991 abbiamo una discarica che è stata ampliata nel 2008 e pochi anni fa abbiamo accettato e già esiste un TM sul luogo vicino alla discarica Casprete il futuro impianto TMB che sta seguendo l'iter della conferenza di servizi con ulteriori verifiche geologiche e geognostiche e ultimamente si sente parlare del biodigestore e noi non abbiamo nessuna contrarietà all'impianto in sé anzi io direttamente mi sono anche confrontata con altre realtà molto importanti in Italia come può essere Contarina che sta proprio trasformando un impianto di compostaggio in un biodigestore anaerobico la cosa che ci dispiace molto è che avendo noi già impianti che nel nostro caso trattano e smaltiscono rifiuti a livello provinciale anche dover avere vicino al nostro territorio seppure in un altro comune un altro impianto che in questo caso recupera rifiuti e chiaramente non è la stessa cosa però avremmo preferito che si seguisse l'originaria destinazione anche se non formalizzata che era quella di localizzare questo impianto di biodigestione a Fano o comunque nella Valle del Metauro e per quanto riguarda tutte le altre cose che si sentono dire sul biodigestore tutti i partiti politici tante persone eccetera io ho letto con interesse e devo dire con condivisione un pensiero di Oriano Giovannelli dove dice che la politica deve tornare a fare gli interessi della collettività e delle istituzioni e non interessi dei singoli siano essi già eletti oppure che si devono candidare sposo appieno questo pensiero e sarebbe veramente opportuno che tutte le forze politiche e tutti i singoli e le istituzioni seguissero quello che è l'importante soddisfacimento delle esigenze del territorio quindi quando si parla di temi molto generali come riduzione di emissioni di CO2 sostenibilità ambientale economia circolare bisogna anche essere pronti e preparati ad accogliere tutto quello che serve per essere un territorio autosufficiente questo però per quanto mi riguarda mi porta a delusione perché non è stato portato avanti quello che era già un accordo ripeto anche se non formalizzato però di realizzare questo tipo di impianto in un'altra vallata della nostra provincia questo per avere una dimensione territoriale e soprattutto una localizzazione di impianti che sia ecco non localizzati tutti nella stessa area e sempre in merito al tema delle biodigestore anche la consigliera regionale Michela Vitri è intervenuta sull'argomento la Vitri ci ha spiegato di come durante il consiglio regionale l'aggiunta non si è espressi in merito alle biodigestore di talacchio mentre lo ha fatto per quello che verrà realizzato a forza nelle sud delle Marche una scelta che ha lasciato la stessa consigliera molto perplessa come ci spiega in questa intervista io chiedevo esattamente la posizione politica della regione in merito alla posizione di questo impianto anche perché la giunta si è spaccata e sta utilizzando due metri due misure ad Ascoli Piceno per lo stesso impianto l'assessore Castelli è intervenuto pesantemente chiedendo di spostare l'impianto da una località all'altra addirittura altri consiglieri sempre di maggioranza ad Ascoli Piceno hanno chiesto di sottoscrivere un documento per mettere in evidenza anche alcune criticità della località e lo vogliono fare anche per Vallefoglia consiglieri di Ascoli Piceno da noi invece c'è il silenzio assoluto da parte della regione l'assessore continua a scaricare tutte le responsabilità sulla provincia il comune lo ribadisco purtroppo non ha voce in capitolo e quindi ci sembra assurdo che la regione possa strigliare le ata per non aver preparato il piano e intervenire sul futuro dicendo che si impegnerà nella progettazione ma non voglia assolutamente prendere posizione su questo biodigestore che invece è un passo importante per tutto il territorio di Vallefoglia e vogliamo che la regione come ha fatto ad Ascoli prenda una posizione dica qual è la località migliore valuti tutto il territorio provinciale questo impianto serve ma aspetta la regione appunto intervenire anche su questo al fianco della provincia non credo che ci sia poi tutta questa fretta nel senso che un impianto così importante ovviamente è necessario perché nessuno vuole gli inceneritori però dobbiamo riflettere bene sulle dimensioni e sul luogo a Vallefoglia nella zona di Talacchio non serve la variante urbanistica rispetto a tante altre località però effettivamente serve uno studio questo è un impianto proposto da un privato e quindi va valutato davvero ogni aspetto prima di procedere e ora concludiamo parlando di sport doppia sconfitta alle tie break per la Megabox Vallefoglia nelle ultime due partite giocati in questa settimana la squadra di coach Fabio Bonafede impegnati nei due trasferte consecutive ha prima perso per 3-2 in casa di Pinerolo e poi ha ceduto sempre con lo stesso risultato in casa di Mondovì nonostante le due sconfitte la Megabox ha comunque conquistato un punto in entrambe le occasioni visto il risultato delle partite due punti che hanno permesso alla formazione bianco-verde di raggiungere il terzo posto in solitario nella pollo e promozione la Megabox con 54 punti ha un punto in più di Maserata ed entrambe le formazioni hanno ancora una gara da recuperare ora le Tigri riceveranno domenica la visita della Sigele Marsala squadra che nella gara d'andata riuscì a battere la Megabox mentre Maserata farà visita alla Green Warriors a suolo ed era questa l'ultima notizia delle nostre Vallefoglia Magazine io vi ricordo come sempre questa puntata la potete seguire anche in streaming sulla nostra pagina Facebook sul nostro sito ma la grandissima novità come vi ho raccontato la settimana scorsa è della nuova app di Rossini TV dove potete seguire tutta la programmazione in diretta 24 ore su 24 rivedere i nostri programmi inviare segnalazioni e tanto altro siamo giunti alla conclusione di questa puntata vi ringrazio per essere stati con noi vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti